Salve a tutti e bentornati, un nuovo tutorial ragazzi di questo, un nuovo video vi spiego come risolvere l'errore riguardo che c'è un altro programma in corso, quindi si sta installando, quindi attendere all'installazione completa del programma quindi in questo caso se riscontrate un problema del genere su Windows Installer dobbiamo direttamente andare su gestione, attività e terminare così il suo processo attraverso i servizi quindi in questo caso scendi fino a giù fino a trovare il servizio che si chiama msyserver mettilo in esecuzione se no non puoi andare su vai ai dettagli, quindi fai avvia si metterà così in esecuzione, vai ai dettagli, scendi fino a giù fino a trovare l'msysc.exe questo qua e fai terminalbero processi una volta terminato chiudiamo un attimo qua e andiamo direttamente a scrivere sulla barra della ricerca di Windows vai direttamente su servizi, nascondi tutti i servizi Microsoft ed eccoli qua, questi sono i servizi che io uso quindi ovviamente questi servizi mi serviranno quindi in questo caso se riscontri questo problema fai su disabilita tutto una volta fatto fai applica e riavvia il tuo sistema operativo una volta fatto andiamo direttamente su servizi scendi fino a giù fino a trovare il servizio Windows Installer vai su proprietà fai avvia poi lo fai interrompi per riavviarlo e poi fai di nuovo avvia una volta fatto fai applica e fai ok più di qua e riavvia il tuo sistema spero tanto che questo video vi sia stato utilissimo iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao